Si sono dati appuntamento al palazzetto dello sport di Gela e il Palacossiga i migliori specialisti del sollevamento pesi, specialità pancapiana e stacco da terra. Oltre 100 atleti hanno gareggiato per conquistare il titolo italiano e la qualificazione mondiale di Düsseldorf in Germania che si terrà dal 5 al 7 giugno. Primo classificato Angelo Pasqualino, organizzatore tra l'altro della competizione, che ha conquistato il titolo italiano della categoria Over 5 alzando 130 kg di panca e 220 di stacco da terra. Sono contentissimo perché ho visto tantissimo pubblico qua che ho portato da fuori e sono molto contento. Speriamo che il prossimo anno porteremo gli europei, io me lo auguro per tutti quanti e invito anche tutta la gente a venire a guardare perché è un bellissimo sport. Già mi sono qualificato ai mondiali di Düsseldorf, ora in Germania, cioè il 6 di giugno andremo in Germania a gareggiare. Titolo tricolore per il giovane Davide Pasqualino che si è classificato primo nella categoria Primavera con 27,5 kg di panca e 65 kg di stacco. Secondo posto per Francesco Ferrigno per la categoria Under 23 stacco da terra. Terzo posto invece per Paolo Caci nella categoria Under 18 con stacco da terra. Soddisfazione immensa per il presidente della federazione Ivan Bianchi per il gran numero di partecipanti all'evento. C'è un interesse per lo sport pulito perché la nostra federazione squalifica a vita chiunque viene preso positivo all'antidoping. Infatti a termine della gara verranno eseguiti numerosi test su molti degli atleti presenti. Per cui sono atleti forti ma sono anche atleti che rispettano le regole. Abbiamo visto anche tanti giovani e anche diverse ragazze, segno che questa è una disciplina che attrae. È una disciplina che attrae anche perché essere forti è una cosa che attrae molto soprattutto le giovani generazioni ma anche le persone più avanti con gli anni che nel normale uso delle palestre di bodybuilding e di fitness trovano una seconda giovinezza. Anche in questo caso tantissima gente da fuori Gela è venuta qui, molti hanno allaggiato qui, tantissimi atleti, una bellissima manifestazione. Dall'altro mi diceva il presidente della federazione se potevamo organizzare addirittura i campionati europei qui a Gela. Naturalmente ho dato subito la disponibilità quindi speriamo l'anno prossimo di poter avere il campionato europeo addirittura.